A Sant'Angelo Invado il tartufo è buono tutto l'anno ma fino a ottobre diventa addirittura d'oro e quando la voglia di tubero e la bellezza di un territorio si mettono insieme non c'è mal tempo che tenga. La pioggia e il temporale che si sono abbattuti sul centro Italia nella giornata di domenica hanno solo modificato ma senza rovinarlo il programma del tartufo d'oro 2018, evento inserito all'interno della 55esima mostra nazionale del bianco pregiato delle marche che ogni anno richiamano nella cittadina ex capitale della massa trabaria tantissimi personaggi del mondo del giornalismo, dello spettacolo e della tv. Assenti giustificati dell'ultimo minuto Gianni Letta, Claudio Rutito, Andrea Pamparana e Chiara Fontanesi ma nonostante queste defezioni la giornata non ha impedito a centinaia di persone di assistere ad un evento che è ormai nel cuore dei vadesi e che per la prima volta in 40 anni si è svolto al bocciodromo comunale a causa appunto del forte temporale. Principali protagonisti della mattinata sono stati Maria Grazia Cucinotta e Gabriel Garco, entrambi nelle vesti di premiatori che sono stati oggetto di tantissimi selfie e si sono dimostrati disponibilissimi nel rispondere alle domande del presentatore Francesco Belfiori. A fare gli onori di casa ovviamente il sindaco Gianalberto Luzzi che ha dato il via ufficiale alla Kermes che ha visto salire sul palco tra gli altri la giornalista Barbara Capponi, conduttrice del Tg1 delle 13, amica di Sant'Angelo Invado e già presentatrice di diverse edizioni del Tartufo d'Oro, al quale la platea ha rivolto un augurio di buon auspicio per la conduzione del Tg delle 20. Prima e dopo Barbara Capponi il premio è andato a Gabriele Rossi, attore di fiction recentemente apparso in tv nell'onore e rispetto, a Ugo Di Bennardo, direttore della direzione Operation e coordinamento territoriale di ANAS, a Mauro Papalini, presidente della sede territoriale di Pesaro Urbino di Confindustria Marche Nord, ad Alba Armillei, professionista delle acconciature che ha messo le mani in testa ad Ive, regine e imperatrici, a Silvia Stone, mezzo soprano e insegnante di canto, attualmente direttrice della Scuola Italia, il corso per cantanti lirici che si svolge appunto a Sant'Angelo Invado, e poi ancora William Benedetti, professore vadese emigrato a Mar del Plata, città gemellata con Vado, a Valerio Nesci, pizzaiolo campione del mondo, grazie alla pizza neanche a dirlo vadese, e alla famiglia Andreoni Dominici di Pian di Meleto, per l'impegno nell'inclusione sociale e l'abbattimento dei luoghi comuni legati all'handicap. Tartufo d'oro anche a Wudenausis, azienda che costruisce case in legno e che fa del rispetto per l'ambiente la propria mission, così come la mostra nazionale del tartufo, e all'associazione famiglie Procentro Giovanile, punto di riferimento da anni per tanti giovani del paese. Una mattinata indimenticabile dunque, che ha consacrato ancora una volta Sant'Angelo Invado nell'elite delle manifestazioni nazionali dedicate al tartufo, un tartufo che da queste parti è buono tutto l'anno ma che a fine ottobre diventa addirittura d'oro.